buongiorno amici di costa rica new travel oggi siamo al parco nazionale vulcano tenorio e andiamo a visitare il rio celeste vamos praticamente sembra un ossetto lavatorio ma con un muso lungo ma quanto è fatto la foto e quelli da vicino ma quanto è sovrino ma come c'è carino e quelli si porto a casa con uro eccoci giunti dopo due ore di camminata a dove nasce il rio celeste il rio buonavista si trasforma perché incontra un altro rio che è pieno di silicio e alluminio e guardate l'effetto che fa questo è il rio buonavista il rio si incontra e voilà la trasformazione nel rio celeste un vero spettacolo della natura wow wow pura vita cari amici eccoci giunti alla cascata del rio celeste guardate che spettacolo della natura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.